Bari Sassuolo, guardate cosa succede in Bari Sassuolo, curva sud, sotto il tabellone Bari Sassuolo, attenzione, il vuoto cosmico si apre sotto di noi, questa è l'incuria, da qui si vola giù per 50 metri ragazzi, da qui si vola giù per 50 metri, assurdo, è tutto aperto, è tutto aperto, allucinante, guardate, da qui si sale, è incredibile, è tutto bagnato, questo è un bambino da qui può volare giù, incredibile, incredibile, è tutto allucinante, qua siamo in curva sud, Bari Sassuolo, guardate, vi faccio guardare meglio, questa è una gratta che dovrebbe essere chiusa, è invece spalancata per tutti quanti, complimenti a chi gestisce lo Stagio San Nicola di Bari, lo Stagio San Nicola, è una vergogna, vergognoso.